Attraverso il simbolo del guerriero, sono tratti diversi argomenti. Accomunando tutti gli esseri di qualsiasi razza, di qualsiasi cultura, di qualsiasi religione, questi argomenti sono l'amore, il sesso, la morte, il tempo. Cos'è la vita per il guerriero? Ecco, la risposta è proprio essenziale ma potente, perché la vita è un'esperienza, ovvero la vita non è una cosa, la vita è quello che noi viviamo, non c'è la vita come una specie di cosa che sta lì. La vita è ciò che noi riusciamo a sentire, a percepire a tutti i livelli, da quello corporeo che ci dà la presenza nella vita, l'energia vitale, a quello emozionale che dà un colore alle cose, anche a quello mentale, perché è vita. Quindi, se non c'è l'esperienza della vita come reale flusso di pulsazione dentro di noi, non la si può riconoscere teoricamente anche nell'altro. Per questo si ammazza con facilità, per questo c'è la violenza. E perché, tra l'altro, accade sempre di più in questo periodo virtuale che certa violenza non viene nemmeno percepita come tale? Perché se si ammazza su un video, su un gioco, attraverso spruzzi di sangue, situazioni tremende, e tutto questo viene vissuto come una cosa virtuale, a quel punto non si ha più la sensazione che c'è realmente un essere umano. Perché non c'è il contatto con la propria umanità. Quindi io non posso riconoscere la vita di un altro se non la riconosco dentro di me. Sono banali questi discorsi, ma di una essenzialità incredibile. E questo ritornare al corpo, perché tu metti in relazione non possiamo avere una coscienza nostra se non abbiamo un corpo che funziona. Ci puoi spiegare meglio questa relazione? Addirittura non è una relazione. Il corpo non è una cosa in cui noi mettiamo la nostra coscienza. Anche un atto di pensiero è un atto corporeo. Anche un momento mistico, uno stato di coscienza amplissimo avviene perché abbiamo un corpo. Se no saremmo un'altra cosa. Probabilmente quando lasceremo questo corpo ci sarà un altro modo di essere. Ma non è questo il problema che mi voglio porre. Anche perché lo scoprirò nel momento in cui questo accadrà. Il corpo è l'individuo. Il corpo quindi non è un oggetto, ma è l'individuo. Non c'è nessun atto della nostra vita che non è corporeo. Almeno finché siamo su questa terra. Quindi non è nemmeno un discorso legato al funzionamento del corpo. Perché già il funzionamento dà l'idea di una macchina che deve funzionare bene. E' proprio la nostra vita che deve avere una sua funzionalità. E quindi siccome la vita è corpo, funzionalità del corpo significa la funzionalità di tutto l'essere umano. Il libro è dedicato anche all'uomo di transizione. Chi è l'uomo di transizione? Beh, questo è un po' difficile da esprimere perché qui entriamo in quello che io sento profondamente. Non è tanto il campo scientifico della psicologia. Perché sono profondamente legato a quello che ha detto Sri Aurobindo e Mer. perché Sri Aurobindo ha detto che l'uomo è un essere di transizione. Ovvero non ha terminato la sua evoluzione. Mentre, non so, gli animali ormai sono da sempre rigidi nella propria specie. Cioè non vedremo mai una tartaruga che sviluppa altre funzioni. La tartaruga sarà sempre con i suoi istinti, i suoi movimenti sia 3.000, 5.000 anni fa sia adesso e finché ci saranno, spero, se non le distruggiamo, le tartarughe sarà sempre identica a se stessa. E questo per tutti gli animali. L'uomo ha la capacità di evolvere. Sri Aurobindo dice che la mente non è l'ultima tappa dell'evoluzione. ma c'è qualcosa di più. Lo chiama il sovramentale. Non mi voglio addentrare in un discorso che può essere troppo complicato. Diciamo che l'uomo è un essere di transizione perché soprattutto in questa fase storica comincia ad avere chiari segni di un'evoluzione che lo dovrebbe portare a sviluppare un più alto stato di coscienza che include la mente ma non sarà la mente ad essere il massimo livello raggiunto dall'uomo. Ecco, questo è il modo più chiaro per poter dire una cosa complessissima come ciò che ha detto Sri Aurobindo. e Mare e tengo anche a sottolineare che in questo percorso di transizione Sri Aurobindo e Mare hanno individuato nel corpo e nella coscienza delle cellule proprio i protagonisti di questa trasformazione. Ecco, questo è da sottolineare. Quindi l'ho trovato anche molto collegato al mio lavoro di diciamo analista corporeo reichiano. Rechiano.